L'Italia crede fortemente nel futuro della Somalia. Con questo spirito, il 20 febbraio la Farnesina ha ospitato una country presentation dedicata al Paese del Corno d'Africa. L'incontro ha l'obiettivo di fare il punto sull'impegno dell'Italia a sostegno del processo di stabilizzazione somalo, ponendo così le basi per le future attività del Paese. La delegazione somala, guidata dal Ministro per il Commercio e le Industrie, è composta da consulenti politici ed esponenti somali del mondo dell'economia e del commercio, ha incontrato il Ministro Terzi e i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali italiane. L'evento è un'occasione per affrontare non solo il fondamentale capitolo del rilancio economico della Somalia, ma anche la ripresa della collaborazione in campo culturale. L'incontro di oggi risponde a un'esigenza di tempismo, perché ci sono ora i presupposti io credo per una rinascita economica del Paese nel quadro di un continente che registra nel suo insieme dei tassi di crescita molto promettenti. L'intraprendenza dei somali, l'esistenza di ingenti risorse naturali nel sottosuolo, ma anche risorse dell'agricoltura, risorse date dal allevamento molto diffuso, che rendono realistica la prospettiva che la Somalia torni ad avere un suo ruolo vitale come polmone economico nell'intero corno d'Africa.